Crescono le preoccupazioni del commercio, della produzione alimentare, della ristorazione e del turismo le prese con l'aumento dei costi energetici e di trasporto, con l'incremento dei costi delle materie prime con la crisi dei consumi e delle previsioni sul turismo di questi temi ha parlato la Confesercenti regionale Abruzzo questa mattina a Pescara nel corso di una tavola rotonda c'è preoccupazione per il futuro e si chiedono risposte urgenti a regione e governo Una situazione assolutamente insostenibile appunto, dopo marzo 2020 con un calo a livello nazionale di più di 150 miliardi di prodotto interno lordo, eravamo arrivati a fine 2022 con un recupero circa di due terzi di quello perso e le previsioni per il 2022 appunto erano di un recupero quasi totale Con questa situazione del caro energia, della guerra che è scoppiata in Ucraina si sta tornando indietro e il rischio è che nelle prossime settimane in qualche modo ci sia un peggioramento e quindi una situazione diciamo di inizio pandemia Bisogna intervenire sul caro energia, ci sono diversi modi con cui si può incidere ad esempio sull'extragettito derivante dall'IVA sull'aumento dei prezzi in qualche modo queste risorse possono essere riutilizzate per calmierare quello che oggi bisogna calmierare anche solo momentaneamente e quindi utilizzare queste maggiori risorse che lo Stato incamera per in qualche modo tagliare i prezzi anche solo momentaneamente, ripeto, non chiediamo interventi strutturali ma in questo momento bisogna assolutamente fermare questa corsa speculativa